Saluto con piacere le amiche e gli amici di Torino, questa esperienza importante che state mettendo in atto, di riappropriazione di spazi abbandonati, di utilizzo sempre più concreto del termine bene comune e di partecipazione popolare e democratica dal basso. A Napoli l'abbiamo fatto dall'inizio, non solo su temi noti in tutta Italia come l'acqua, dopo il referendum dell'acqua noi siamo l'unica città d'Italia a medio grande che ha tolto una società per azioni e fatto un'azienda di diritto speciale ABC Acqua Bene Comune, ma anche che abbiamo sostenuto le esperienze dal basso, di riappropriazione di spazi, di luchi abbandonati, la riattivazione di un civismo isperato fino a quattro anni fa. L'abbiamo fatto rispettando le autonomie, non entrando in conflitto, ma mai cercando l'eterodirezione di queste esperienze dal basso. Dialogo, rispetto reciproco, autonomia, agorà di prossimità. Adesso addirittura siamo in una fase di mettere in sicurezza queste esperienze, che nessuno mai più osi considerarle abusive. Riappropriarsi di uno spazio abbandonato, direbbero i romani di una res nullius o di una res de relicta, non è un'occupazione, è una liberazione. Io ringrazio le persone che insieme a noi stanno cercando di recuperare il decoro nella nostra città. Quindi cerchiamo di fare un passo addirittura ulteriore. Abbiamo approvato una delibera sui beni comuni, una delibera sulla riappropriazione alla città dei beni privati abbandonati. La proprietà privata non si tutela sempre, ma si tutela solo, come dice la Costituzione, quando non è in contrasto con l'unitilità sociale. Allora, se ci sono beni privati abbandonati, noi riteniamo che possono essere acquisiti nel patrimonio comunale e dati in affidamento alla città. Saranno i quartieri, saranno i cittadini, saranno le persone a decidere che farne. Un centro sociale, un campo di calcio, un laboratorio teatrale, un orto, qualsiasi cosa. E quello che è ancora più importante è che in questi giorni stiamo lavorando per fare un regolamento sugli usi civici e usi collettivi. Cioè insieme, amministrazione comunale, democrazia dal basso, che si decide come utilizzare questi spazi. Tantissime esperienze, ne cito qualcuna, ma ne sono tante nella nostra città. L'asilo Filangeri, oppure un'altra esperienza che mi ha molto colpito, quello dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario, dove alcuni ragazzi sono entrati liberando la mente, dove la mente veniva arrestata. E di fronte a tentativi di sgombero noi siamo intervenuti e abbiamo detto no, ci vogliamo far cura anche noi di questi spazi, lasciandoli nella piena autonomia dei cittadini della nostra città. E quello che è clamoroso, il Comune di Napoli alla fine ha vinto la battaglia ed è stato nominato custode di questo bene. Lo stiamo rilanciando insieme, riqualificando insieme, addirittura come custodi giudiziari abbiamo allacciato l'acqua, abbiamo allacciato l'Enel. Quindi altro che attività illegali o attività abusive. Questo è il vero modo, secondo me, di dare concretezza ai beni comuni. Altrimenti il bene comune diventa una frase di cui se ne appropriano tutti. E credo che il bene comune significa far partecipare una moltitudine di cittadini nelle proprie individualità e come momenti collettivi di aggregazione al rilancio delle nostre comunità. Questo è un nuovo modo di fare politica, creare veramente una democrazia partecipativa dal basso. Ecco perché, e chiudo, se riusciamo a mettere in connessione anche esperienze del Nord Italia come del Sud Italia, è così che può nascere anche un nuovo modo di fare politica, con più autonomia e meno centralismo autoritario.